papà e figlio morti annegati a fano domani il funerale a calcinelli giustizia pesarese riunita per l'ultimo saluto a giuseppe fanuli passano gli anni restano le incurie segnalazioni dalla zona mare pierpaoli altri quattro anni alla guida di confartigianato musica e storia tre serate di luglio con le note oliveriane buona serata a tutti voi amiche amici di rossini tv ben ritrovati ad un nuovo appuntamento il primo di questa settimana con l'informazione serale di rossini news telegiornale di lunedì 11 luglio che apriamo occupandoci della tragedia consumata di sabato mattina nello specchio di mare di fronte a gimarra di fano dove sono venuti a mancare morti annegati davide e fabio zandri papà e figlio rispettivamente di 44 e 8 anni domani sarà lutto cittadino accoglie al metauro e terre rovresche comuni di residenza ed origine della famiglia zandri un lutto cittadino che sarà in concomitanza al funerale si terranno domani martedì 12 luglio alle 16 e 30 i funerali di davide e fabio zandri papà e figlio rispettivamente di 44 e 7 anni e mezzo morti annegati sabato mattina mentre facevano un bagno nelle acque agitate del mare di gimarra di fano davanti alla spiaggia dei fiori i funerali si terranno nella chiesa santa croce di calcinelli dove la famiglia zandri risiede un comune quello di coglie al metauro che per la giornata ha proclamato lutto cittadino al pari delle comune di terre roveresche davide zandri infatti nato e cresciuto a rupoli di orciano prima di trasferirsi a vivere a calcinelli nell'occasione saranno listate a lutto le bandiere esposte sui palazzi comunali e annullate ogni manifestazioni pubbliche o attività ludiche previste nella giornata di martedì anche gli uffici comunali osserveranno un minuto di raccoglimento alle 16 e 30 e anche fanno ieri ha silenziato la cerimonia del patrono san paterniano per una tragedia immane che ha distrutto una famiglia e sconquassato l'animo di un'intera provincia profondamente toccata dall'immisurabile dolore di stefania carpignoli mamma e moglie di 43 anni che dalla riva agitata del mare di fano ha visto morire il marito sparire fatalmente il figlio fabio fra le onde per poi recuperare grazie soccorsi l'altro figlio luca di 12 anni poi ricoverato al salesi di ancona e per fortuna ora fuori pericolo lo stesso dolore del quindicenne primo dei tre figli della coppia rimasto a casa in quella maledetta mattina del 9 luglio in cui il mare mosso di fano è stato fatale è una tragedia che si porta dietro i tanti se e i ma del bagno in un mare infido e prima dell'orario di entrata in funzione dei servizi di salvataggio una serie di interrogativi che ora cedono lo spazio ad un immenso dolore al quale si sta accompagnando la moltiplicazione di gesti di solidarietà e raccolta fondi per dare un granello di conforto ad una famiglia inconsolabile un'altra tragedia ma di altro genere si è consumata ieri a pesero in via ponchielli zona villa san martino dove un giovane di 29 anni si è tolto la vita impiccandosi i familiari entrati in casa hanno provato a salvarlo allertando i soccorsi ma dopo mezz'ora di reanimazione il 118 non ha potuto far altro che constatare il decesso sul posto anche la polizia che non ha trovato biglietti o messaggi da dio così come ascoltando amici e colleghi non ha riscontrato elementi che lasciassero presagire l'insano gesto un altro lutto ha scosso la comunità peserese nei giorni scorsi quello della morte in seguito ad un infarto delle presidente del tribunale di pesero giuseppe fanuli venuto a mancare giovedì mattina all'età di 65 anni le immagini che vi stiamo mostrando si riferiscono al funerale che si è tenuto questo pomeriggio nel duomo di pesero e che ha riunito gran parte del mondo della giustizia peserese estremamente legata al grande giurista che era capo del tribunale della città dal 2017 alla cerimonia anche tante autorità militari e civili del territorio fanuli è stato un professionista apprezzato in tutte le marche per il suo precedente operato fin dagli anni 90 nei tribunali di macerata fermo e ancona prima dell'esperienza a pesero la salma verrà tumulata a treia provincia di macerata dove vive la famiglia d'origine e proseguono i controlli dei carabinieri nella delicata area della città di pesero compresa fra il parco miralfiore e la stazione ferroviaria nei giorni scorsi è stato denunciato un uomo ritenuto responsabile di spaccio di stupefacenti ma è stato denunciato pure il suo cliente ritenuto responsabile di favoreggiamento per aver provato ad aiutare il pusher a eludere le indagini nello stesso contesto i carabinieri hanno sequestrato 28 dosi fra cocaina ed eroina nonché un iphone e una telecamera gopro risultati provento di furto e detenute proprio dallo spacciatore e dal cliente entrambi denunciati anche per ricettazione ed ora lo spazio dedicato alle vostre segnalazioni che come sempre vi invitiamo a inviarci al numero whatsapp dedicato 370-366-7210 a distanza di un anno siamo tornati su un caso di incura che continua a trascinarsi nella zona mare di pesaro ci troviamo questa mattina in viale trieste a fianco della sede rinnovata di pesaro studi per tornare a parlare dopo appena un anno delle problematiche riscontrate da giovanni del monte consigliere di quartiere di santa veneranda una serie di problematiche riscontrate anche dai numerosi frequentanti della spiaggia libera qui alle mie spalle è una spiaggia libera che presenta diverse problematiche che lo stesso giovanni del monte ci ha segnalato a distanza di un anno e come ancora l'anno scorso allora verso il muro di villa marina dove dalla parte dove c'è le scuole c'è quasi un metro di sabbia alzata no che poi ci sono le strisce pedonali che quella sabbia viene tutto nelle strisce pedonali ma il primo tratto di questa pedana le cose sono tutte rotte le lastre e sopra c'è la sabbia la gente va giù con la carrossina con i bastoni da qua quella è una zona che non vanno gli oligarchi al mare lì ma vanno gli operai vanno i pensionati si portano l'ombrellone si portano queste cose qui e quindi va tenuta pulita come dentro casa va tenuta più in giù c'è quel gioco dei bambini con quella rete che arriva a coprire un'altra pedana quella è dei privati se qualche d'uno in comune riesce a capire che lì deve essere spostata di mezzo metro e la sabbia non deve venire sul passaggio che si va giù il mare perché anche lì le donne quando arrivano lì con la carrossina devono sportarsi sull'altra attraversare per andare sull'altra sull'altra pedana e quindi cosa costa e l'erba anche quest'anno l'hanno tolta il comune ma l'ho tolta anch'io perché continuamente sta crescendo se tu porti via la sabbia da quel punto lì non cresce più niente non cresce la spiaggia libera è libera sì di che cosa è libera che tu ci puoi andare nella spiaggia però quella spiaggia va sistemata allora i bagni non ci sono i bagni per andare al bagno per andare a fare la pipì bisogna andare a quello del porto bisogna andare quindi anche lì va messo un bagno perché quella spiaggia lunga 200 metri è larga più di 60 metri adesso la sabbia arriva verso il muro di villa marina dove sta andando dentro già dove c'è i cancelli già andata dentro è già andata quest'anno andava portati indietro di chi è a meno interesse se marchi molti servizi che deve fare il comune deve imporre queste cose queste qui lo scorso anno avete segnalato la presenza di pedane che erano al di fuori del loro posizionamento sono state rimosse però voi chiedete dove sono finite quelle pedane possono essere utilizzate per quel pezzo che manca all'ingresso della spiaggia libera qua mancano ci sono quelle rotte ci sono quelle che mancano completamente e mi state dicendo che non avete i soldi per comprarle a parte che non costano miliardi non costano però quelle dell'anno scorso intere dove sono andate a finire le ha mangiate qualche d'uno hanno fatto i panini a due passi dalla spiaggia libera sorge il riqualificato parcheggio di villa marina un parcheggio riasfaltato valido anche secondo giovanni del monte ma non mancano i problemi anche in questo caso è una cosa fatta molto bene il parcheggio il comune in questa cosa ha indovinato una bella roba per rifare questo parcheggio quest'anno l'ha anche asfaltato ma per andare in questo parcheggio tutte le vie che per andare bisogna passare per forza in via gorizia la via gorizia è un campo arato tutte le piante hanno buttato fuori le radici e quindi devi schivare con le macchine devi schivare con i motorini devi schivare con le biciclette si poteva benissimo magari lasciare un altro anno senza asfalto il parcheggio e sistemare la strada la via gorizia che porta al parcheggio e la via napoli che si esce poi per ritornare a casa tutti devono passare per forza in queste due vie non ci sono altre soluzioni e purtroppo da tanti giorni continuiamo ad occuparci anche di emergenza idrica infatti dal 15 luglio fino al 15 ottobre il settore genio civile marche nord della regione ha disposto la limitazione dei prelievi da tutti i corsi d'acqua insistenti nel bacino idrografico del fiume metauro un decreto che ha la finalità di preservare la risorsa idrica e salvaguardare il sistema di approvvigionamento idropotabile del territorio della provincia limitazioni che non si applicheranno i prelievi destinati all'uso idropotabile e l'abbeveraggio delle bestiame marco pierpaoli è stato confermato segretario di confartigianato imprese per le province di ancona e pesaro urbino pierpaoli che guiderà l'associazione per i prossimi quattro anni e in questa intervista ci illustra oneri e responsabilità di questo nuovo mandato un grande onore rappresentare la confartigianato ancona pesaro urbino è l'associazione più grande della della regione marche e sicuramente quattro anni intensi in quattro anni che hanno visto le nostre imprese in grandi difficoltà ovviamente la pandemia ha modificato tutti gli schemi e quindi le nostre imprese si sono adattate in breve tempo a nuove dinamiche sono state veramente molto brave hanno saputo resistere e noi ci siamo impegnati per essere utili il noi ci siamo di confartigianato è non uno slogan ma proprio una nuova modalità per essere vicina alle nostre imprese i quattro anni che ci aspettano saranno quattro anni sicuramente intensi speriamo un pochino meno intensi rispetto a quelli che ci hanno preceduto ma sicuramente le nostre imprese dovranno essere aiutate a resistere a un'epoca complessa perché la pandemia ne abbiamo avuto ben chiaro le dinamiche ora il l'aumento del prezzi sulle materie prime la difficoltà di reperire le materie prime l'aumento dei costi dell'energia del gas che noi già a ottobre del scorso anno avevamo anticipato con tutto quello che riguarda anche l'inflazione e l'aumento dei costi sicuramente ci apriranno nuove dinamiche dovremmo essere bravi a intercettarle e trovare delle soluzioni delle ricette per aiutare le nostre imprese a resistere anche in questa successiva fase del covid state stilando un piano dei valori una sorta di vostra stella polare che vi dovrà guidare in questo percorso sì abbiamo concluso il congresso che ha visto una presenza fisica finalmente fisica nei nostri territori sono stati eletti 676 dirigenti su 10.000 imprese che rappresentiamo quindi una prova di democrazia importante e i nostri dirigenti si sono riuniti e hanno elaborato quelle che secondo loro sono le priorità su cui Confartigianato si deve impegnare ad affiancare le istituzioni per elaborare delle strategie e dei progetti che possano rendere sicuramente questa regione più attrattiva dove il fare impresa sia più facile e quindi stiamo lavorando su dei temi importanti tutta l'attività dei prossimi quattro anni saranno basati su questi temi dalla sostenibilità alle infrastrutture all'opportunità dei bandi a temi della digitalizzazione e dell'innovazione ha Confartigianato imprese Ancona Pesaro Rubino ha rafforzato la sua presenza con 10.000 iscritti quindi in controtendenza purtroppo con la chiusura delle imprese comunque aumenta la fiducia di verso Confartigianato siamo orgogliosi di cercare di impegnarci sempre maggiormente nel rafforzamento della nostra associazione nella provincia di Pesaro Rubino a settembre presenteremo due importanti novità su Pesaro crediamo fortemente nel cercare di essere utili alle imprese del comune di Pesaro e quindi a settembre non anticipiamo nulla ma presenteremo due importanti novità che rafforzeranno la nostra presenza su questa città come altre iniziative che andremo a organizzare nella provincia da Urbino a Fano non dimenticandoci tutti i tanti comuni che vedono una ricchezza del territorio di Pesaro Rubino perché noi abbiamo una provincia con tante eccellenze con tanti comuni la presenza di Confartigianato con le 14 sedi nella provincia è a testimonianza del volere esserci del volere essere utile e supportare le nostre imprese quindi un bilancio positivo per quello che riguarda la rappresentanza dell'associazione in questi ultimi 4 anni e una speranza di poter far meglio nel futuro consapevoli delle sfide che attendono le nostre imprese e tutti noi è stato riaperto questo weekend il sentiero delle passioni di Fiorenzuola di Focara vale a dire la passeggiata che dal borgo sulla cima del San Bartolo scende fino alla spiaggia un sentiero che è stato ripristinato dopo lunghi lavori susseguenti al grave incendio del 2017 che ne compromise accesso e utilizzo un lavoro dall'importo in circa 100.000 euro che ha compreso la ricostruzione della staccionata l'installazione di nuove panchine e la piantumazione di nuovi alberi e sabato sera è stata anche ufficialmente inaugurata la nuova stagione di Abbaia Flaminia la spiaggia libera dedicata a cani e ai padroni degli amici a quattro zampe che dopo due stagioni di successo ripropone non lontano dalla foce del foglia il luogo dove pesaresi e turisti possono accedere ad una spiaggia di 52 metri di arenile assieme al proprio animale con tanti servizi come ciotole con acque sempre disponibili nolleggio lettini e ombrelloni docce e deposito di materiali ci spostiamo a Fano dove torna dal 13 luglio fino all'11 settembre Cinefortune Capolavori Restaurati by the Sea si tratta di una rassegna di cinema promossa da Fano Fellini e dalla associazione La Locura dopo l'omaggio a Federico Fellini nel 2020 e a quello a quattro straordinari interpreti del nostro cinema l'anno scorso nel 2021 l'edizione 2022 vedrà protagonisti Pier Paolo Pasolini Ugo Tognazzi e Vittorio Gasman in occasione del centenario della loro nascita e invece domani 12 luglio alla corte di Palazzo Mosca di Pesaro secondo appuntamento con il ciclo di conferenze organizzate dall'associazione Fidapa di Pesaro dedicate a tre donne che hanno contribuito alla storia e allo sviluppo della città grazie alla loro personalità e al loro carisma fuoriuscendo dalle tradizionali definizioni di donne, madri e vedove domani alle 21 sarà il turno di Anna Guidarini ritratto intimo della madre di Gioacchino Rossini con interventi musicali all'arpa celtica e al flauto a cura di Stefania Betti e Tommaso Bacchielli e invece giovedì 14 luglio si terrà nelle cortile dei musei civici il primo dei tre appuntamenti della quinta edizione di Note Oliveriane la suggestiva rassegna che unisce musica antica e storia del territorio organizzata proprio da Biblioteca e Musei Oliveriani anche quest'anno per la quinta volta quindi siamo al quinto anno Lento Olivieri propone questo appuntamento delle Note Oliveriane e infatti come giustamente si ricordava questo è un appuntamento che va a cercare di indagare quello che è stato il percorso musicale la storia musicale nei secoli più antichi quindi prima di Rossini ma che comunque ha contribuito a questa storia a rendere poi il territorio pesarese anche della provincia di Pesaro Urbino particolarmente ricco e fecondo anche dal punto di vista musicale l'eccezione perché comunque ci sono sempre le eccezioni e ci piace anche sottolinearle è che poi uno di questi appuntamenti dei Note Oliveriane invece arriva ai giorni nostri ai giorni contemporanei ricordando ogni anno un cantautore contemporaneo attuale e diverso quindi quest'anno sarà la volta di Renato Carosoni in passato avevamo affrontato De Andrea avevamo affrontato Guccini e altri personaggi le date sono appunto il 14, il 21 e il 29 luglio e iniziamo il 14 con la riscoperta di una figura di un impresario teatrale Eustacchio Bambini di cui ci racconterà Maria Chiara Mazzi e Maria Chiara appunto fa sempre questo studio questa ricerca sulle fonti, sui documenti in parte conservati presso la Biblioteca Oliveriana ma non solo presso la Biblioteca Oliveriana attraverso questi documenti riesce a ricostruire e a raccontare queste storie interessantissime anche divertenti e in gran parte sconosciute il secondo appuntamento sarà il 21 luglio anche in questo caso la riscoperta della storia musicale del 600 della provincia di Pesaro Urbino con un accenno particolare anche alla collezione musicale della famiglia Albani conservata a Villa Imperiale si chiude il 29 luglio appunto come accennavo poco fa con la storia di Renato Carosone raccontata da Enzo Vecchiarelli e dai suoi collaboratori E dalla storia musicale passiamo alla poesia che si interseca con le declinazioni del teatro parliamo infatti di Vaghe Stelle dell'Orsa un'altra rassegna prevista nel cortile dei musei civici ma che partirà mercoledì 13 luglio Con questa iniziativa si vuole coprire un settore quello della poesia molto importante che a Pesaro è stato portato avanti con grande professionalità e qualità da Laura Corraducci negli altri anni e che per la prima volta quest'anno è inserito nelle attività del GAD ovviamente non soltanto recitazione di prosa ma anche recitazione di poesia rientrano nell'ambito della prassi di quello che è il GAD e gli amici della prosa cerchiamo di fare in modo che con questo nostro ingresso sia ancora più pubblicizzata e ancora più seguita questa iniziativa Di che cosa si parla? Perché gli appassionati di poesia devono partecipare a questa rassegna poetica? Allora intanto speriamo che gli appassionati di poesia continuino perché siamo alla non edizione la rassegna è sempre andata direi più che bene e c'è bisogno di poesia siamo da quest'anno anche la città capitale italiana della cultura quindi la poesia è una spalla e forse anche una gamba importante della cultura siamo tre appuntamenti come sempre tre serate partiamo mercoledì 13 luglio proseguiamo il 20 e finiremo il 27 Allora intanto la poesia credo che vaga la pena ascoltarla tutta noi abbiamo sempre investito sulla poesia contemporanea quindi ci sono tre voci di poeti contemporanei a serata sono nove però per ogni serata omaggeremo anche un poeta del passato che ha segnato con i suoi versi la storia della poesia alla prima serata ci sarà un omaggio a Giuseppe Ungaretti la seconda una poetessa ucraina-russa visto il momento mi sembrava bello scegliere una voce così che è Anna Akmatova l'ultimo omaggeremo un poeta che è stato ospite alla prima edizione di Vaghe Stelle dell'Orsa e che si chiama Pierluigi Cappello e dunque appuntamenti culturali in vista e altri che si sono chiusi questo weekend con grande successo di partecipazione è il caso di Novilara Arte e Gusto che ieri ha chiuso i battenti con la sua decima edizione che vi mostreremo in uno speciale dedicato mercoledì 13 luglio alle ore 21.20 intanto però ne parliamo con un estratto di questa intervista realizzata dal nostro Paolo Pagnini al coordinatore organizzativo della rassegna Jacopo Fiorani siamo con Jacopo Fiorani direttore artistico ma in realtà diciamo il reinventore di questa festa che prende un'eredità antica direi antica e importante qui Novilara Arte e Gusto è arrivata la sua decima edizione quindi per noi è un bellissimo traguardo ma giustamente veniamo da un passato glorioso direi su Novilara perché è una festa che si è iniziata a vedere già dalla fine degli anni 70 e poi si è evoluta anche un po' persa e noi l'abbiamo recuperata volentemente con tutti i nostri volontari e ci siamo adoperati nel farlo nel miglior modo possibile alzando un pochino anche il livello rendendo un po' più contemporaneo in questo senso nel senso il mangiare è sempre eccellente le nostre signore sono fantastiche perché sono il nostro patrimonio che si fanno le tagliatelle a mano e in più abbiamo aggiunto tutte queste bellissime cantine che sono 38 quest'anno molte anche da fuori provincia per dare appunto un incoming anche a far conoscere il nostro territorio e non solo al contrario in aggiunta abbiamo anche due chicche se posso una è quella dell'olio di cartoceto che anche quest'anno collabora con noi e in più un'installazione artistica anche grazie alla collaborazione con il quartiere 3 e il comune di Pesaro la sfida grossa è stata quella di inserire l'arte non solo come strumento così complementare di richiamo tutte le sagre, tutte le feste hanno il momento musicale hanno il momento spettacolare eccetera tu hai fatto questa scelta di inserirla nel titolo addirittura per cui l'abbinamento parte dall'inizio arte e gusto viaggiano in parallelo giustamente è stata un po' una sfida questa e anche perché Novilara è conosciuta per una tradizione gastronomica molto importante come dicevo la sfida era richiamare questa tradizione anche sotto diversi aspetti quindi quello culturale e anche artistico in questa sfida, in questo gioco abbiamo messo in scena un concorso letterario delle installazioni artistiche tutte che abbiano comunque un tema legato a questo cappello che è Novilara che è il nostro contenitore se vuoi che è questo castello bellissimo che noi abbiamo voluto valorizzare dando gli appunto diversi spunti per attrarre anche un pubblico più variegato se vuoi e questa è un po' la nostra sfida e il nostro obiettivo è quello di continuare su questa linea 10 anni fa impressione la doppia cifra anche perché quando siamo partiti non ci credevamo era un'idea della comunità di rimettersi insieme in gioco arrivare a 10 anni ti fa capire che siamo abili arruolati e concreti anche perché purtroppo anche con il covid e le varie difficoltà anche molte realtà si sono anche perse sul nostro territorio mentre noi siamo riusciti un po' a mantenerlo vivo e a raggiungere la doppia cifra quindi insomma ancora di più un'emozione e questa cosa del decennale era interessante da vivere e viverlo con un programma di tutto rispetto ecco in questo io penso che ci siamo veramente riusciti e si chiude qui questa nostra edizione del telegiornale Rossini News prima di salutarci vi ricordiamo la nostra prima serata che in questo lunedì alle 21.20 è dedicata alla commedia dialettale in due atti La vita la gira sgon del vent un'opera realizzata dalla compagnia teatrale dialettale Il Cavalcavia appuntamento dunque questa sera alle 21.20 L'informazione di Rossini TV invece torna puntuale domattina alle 7.20 in diretta con la consueta rassegna stampa dei quotidiani locali Buongiorno Rossini che per l'occasione sarà condotta dalla nostra Emanuela Rossi E' invece davvero tutto per questo nostro spazio informativo della sera Rossini News da parte mia e di tutta la redazione vi ringrazio per averci seguito e vi auguro una buona serata in compagnia dei nostri programmi